E basta, no, no, non andare mai in mezzo con la palla, piuttosto buttare nell'angolo e perdila però Piuttosto che buttarla Goal, yes, bel passaggio caro, bel passaggio, ti ringrazio per il bel tiro Ok, 1-0, con calma, con calma Mezzo perfetta, no palo, no vabbè frate Ti va di fare due partite? No ragazzuoli, lo sapete, gioco solo il sabato e la domenica con i followers Guarda che bello, va che bello il diretto in porta Yes, grazie Era pure potentissimo, meno male che ha rimbalzato sul tetto, sul tettuccio, meno male, meno male Dici, gliela faccio fare tutta, non è un problema, assolutamente Tutta, tutta, perdere 5 minuti a me non costa nulla Assolutamente, ho fatto pure gol da centrocampo Ho fatto pure gol da centrocampo Cioè non è un problema per me Fai perdere 5 minuti a gente che fa la tossica, capito? Cioè veramente Va, faccina, felice Bravissimo Guarda che me ne vado di qua Oh fuck, torniamo indietro Ok Palle e mezzo Peccato Ok Let's go boys Ho rischiato tantissimo a fare il doppio salto Ma l'avevo vista bella alta Quindi Passimo E ci va benissimo noi Perché i veneziani che non risolvono nulla 1v3 non puoi fare nulla Se non la passi Ok Noi diamo fastidio Ok Ho segnato io Non so come Ok L'ultimo tirerà il mio Non ne ho fatto tutto loro Benissimo Ok Tirarla via Io me la collo Tutta tua Vada io Te la lascio proprio volentieri Vai muffin Oh fuck Ho provato a fare il pinch con lui Ma Non è riuscito Benissimo Raga Ok Ok prova Oh fuck Bel passaggio Grazie ragazzi Bravo bravo Molto bravo ad anticipare Io Molto bravo a tirarla da così storta Ovviamente si tira piano Perché È troppo angolata Rispetto all'anno Persone più sole Questo non è gol Quindi vai pure tranquillo Amico mio Bravissimo Ok Tutta Non ci sei tu Invece si Dai presa Bravissimo Vai pappa Peccato 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 pappa Oh Bel tiro Guarda Non dirlo due volte Vaso perché È incredibile Come io Non arrivi mai A champion Tantissime volte Che arrivo A diamante Quattro E poi mi trovo In hub In squadre Così secondo me Cioè proprio Scriptato Guarda se io Arrivassi a Se vincessi questa No la prossima Troverai sicuramente Gente scandalosa O perché Me l'ha fatto Talmente tante volte Che trovo gente forte E finalmente mi fa salire Perché me l'avrà fatto Tipo Una Tenendomi basso Una Quindicina di volte Ma proprio Tenendomi basso Ok Palla e mezzo Perfetta Peccato Una quindicina di volte Quindi Si potrebbe essere La volta buona Che Che non me lo fa A meno che Non lo trolli io Capito Io sono champion 2 Ma champion 3 L'ho preso Una volta Golla Si Ok Io non ho mai preso Il champion 1 In realtà Ho giocato Torneo champion E sono arrivato Secondo Due giorni fa Sta bene Il bianco Sull'olivastro pure Ma Sul bianco No Tutta Tutta tua Capo Ma ora Se indovino Quanto sei alto Usi la scaraba Ok Va bene Ma io l'ho già detto Un sacco di volte Quanto sono alto Però devi indovinarlo Proprio Al millimetro Al millimetro Cioè Al centimetro Devi indovinarla Se ne indovini proprio Se te lo ricordi Uso la scaraba Va bene Ci sto Vai Vediamo Spara 81 Forse Mia madre 1,70 Io 1,86 Bravissimo 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 Quindi sono Mi è andata bene Anche mio fratello Anche mia sorella Siamo in tre Molto alti Mamma che bel tiro Grazie caro Io ho parenti di due metri O 1,95 Allora probabilmente Crescerai ancora un po' Magari 1,90 Ci sta Ci sta Ci sta Un elpo Però Ormai la trovi Cioè ci sta 46 Sì La trovi Sempre con abbastanza facilità Ma Non così tanta Però ti stanno bene le scarpe Uno alto con il piedone Gli stanno bene le scarpe Quindi easy Vedi quelli bassi col piedone Sproporzionati Ok Vado a prendere il boost Bellissimo tiro Questo Vada No fuck Peccato Yes Vado a prendere il boost E ci sono Vado a prendere il boost La prima è vinta ragazzi Palesemente proprio Gol Yes Grazie caro Grazie caro Bel riflesso ho avuto qua Ho avuto veramente un bel riflesso Tatac Stuck Ok Sono carico raga Sono carico GG Quindi mi tocca Usare la scarab Pezzi di merda Anzi pezzo di merda Grazie a tutti